La questione 7, che fa riferimento alle circostanze degli atti umani, per me è una questione importantissima che evidentemente è affrontata sotto una prospettiva filosofica teologica morale. Ma il fatto è che le azioni sia individuali sia di massa degli uomini lungo la storia spesso oggi, se non quasi sempre, non vengono analizzate sotto una giusta prospettiva. Ed è per questo che si fa storia alla cavaliera. In modo particolare non si vuole mai toccare l'aspetto morale. Allora le circostanze vengono bypassate, vengono trascurate, mentre invece le circostanze sono importanti. Il problema però che qui si pone, Tommaso, è questo. Ma io, come teologo, devo considerare le circostanze? In sintesi, certamente, perché se il teologo cristiano deve puntare alla vita eterna, e abbiamo detto che la vita eterna è determinata anche dalle opere dell'uomo, perché Dio, attraverso il suo sacrificio, ha giustificato una volta per tutte l'uomo. Non c'è bisogno più di andare al Tempio e sacrificare il vitello o l'agnello o la colomba. C'è stato un sacrificio, una volta per tutte, ed è il sacrificio di Cristo. Che giustifica? Però abbiamo detto, una volta giustificato, l'uomo si trova nella condizione di fare la volontà di Dio. Nel momento in cui sbaglia, abbiamo il Pontefice Massimo, che è Cristo, che ha donato alla sua Chiesa la possibilità del perdono, senza bisogno di fare altri sacrifici. È evidente, quindi, che l'uomo si trova nella condizione di poter aprirsi alla vita eterna. Attraverso questo sacrificio, attraverso il pane della vita eterna, il pane degli angeli, diceva Tommaso d'Aquino, quella sequenza che ormai viene deliberatamente trascurata, oppure decapitata, col perdono, però è evidente che ci deve essere una corrispondenza anche da parte dell'uomo. Questa è una sintesi, no? Perciò bisogna valutare quali siano quelle azioni e quindi ecco che la teologia diventa teologia morale, anche questa branca della teologia è sempre stata importantissima nella tradizione della Chiesa e non soltanto di quella cattolica, oggi viene trascurata perché guai parlare di morale, guai parlare di peccato, guai parlare di dannazione, la teologia deve fare riferimento alla teologia morale, quindi agli atti dell'uomo. Quali sono quegli atti che ci conducono e ci aprono alla vita eterna, quindi alla speranza, abbiamo detto, di una vita eterna e quali sono quegli atti che ci allontanano da questo percorso. per poter far questo bisogna valutare la coerenza degli atti di un cristiano e questa coerenza fa riferimento non soltanto alle decisioni dell'essere umano intrinseche, ma queste decisioni sono per lo più determinate e definite da delle circostanze circunstant, cioè dalle cose che ci stanno attorno. E dalle cose che ci stanno attorno noi possiamo valutare in che misura un'azione può essere giustificata o non giustificata, un'azione buona o cattiva. Quindi le circostanze, ma guardate anche per una valutazione di fatti storici che ormai vengono mitizzati, perché si parla di mitologia cristiana, di mitologia biblica, ma i nostri studiosi, quando ci presentano alla televisione e nei vari documentari certi personaggi da Gengis Khan a Mao Zedong a Stalin a Alessandro detto il Magno a Carlo detto il Magno decontestualizzano tutto? Cioè sembra che questa gente non abbia mai avuto nessuna responsabilità e che a loro sia permesso tutto perché sono considerati magni, sono considerati grandi e sono considerati grandi perché? Perché si sono così evidenziati per lo più con la violenza, non certamente con l'amore. La storia alternativa non è oggetto di conoscenza né è oggetto dei documentari che oggi ci presentano i mezzi di comunicazione, i mezzi di pseudo informazione ormai. Quindi le circostanze sono importanti. Però il teologo giustamente dice come faccio a giustificare sotto un profilo teorico l'importanza della circostanza. Ci sono dei riferimenti anche a Cicerone che ho saltato. Cicerone insiste nella sua ricerca retorica dell'importanza delle circostanze le quali danno forza a una determinata difesa o una determinata accusa. vediamo innanzitutto bisogna definire che cosa sono le circostanze. Sembra che le circostanze non siano accidenti dell'atto umano perché? Perché stanno fuori dalla persona. Parliamo ormai di persona, no? Perché evidentemente questo ragionamento non lo applichiamo all'animale o alla cosa nella circostanza e tutto il discorso e la riflessione in una prospettiva morale la possiamo applicare solamente abbiamo detto perché atto volontario in una prospettiva assoluta può essere predicato solamente dall'essere umano. Perciò cosa sono le circostanze la tesi dice non possono essere accidenti dell'atto umano Tommaso sostiene proprio tutto il contrario e io sono perfettamente in sintonia con Tommaso da un punto di vista proprio dell'analisi storica dell'analisi dei fatti del rapporto della causa effetto ma Tommaso qui come ho detto cerca di spiegare la cosa anche una prospettiva teorica allora evito la prima citazione Cicerone vediamo la seconda e la terza che vorrebbero sostenere appunto che le circostanze non sono non sono accidenti l'accidente ha per propria per proprietà l'inerenza in un soggetto Mario è bianco Luigi è un nero parliamo di carnagione Filippo è un giallo Ernesto è un pelle rossa ecco queste cose sono inerenti al soggetto e quindi bianco rosso giallo verde blu sono inerenti al soggetto ora ciò che sta intorno circunstat che sta intorno non è inerente perciò noi non possiamo parlare di accidente nessun accidente può appartenere a un accidente cioè ci si chiede ma ci può essere l'accidente dell'accidente? la risposta è sì ma qui si sostiene il contrario ora anche negli atti umani ora anche gli atti umani sono accidenti se io mi metto a suonare beh questo atto è un accidente non necessariamente appartiene all'essenza la mia essenza è essere animale ragionevole il fatto che io suoni o non suoni è qualche cosa di possibile però non costituisce l'essenza della mia natura dunque le circostanze non sono accidenti degli atti vediamo la risposta già subito a questa a questa osservazione una cosa può essere accidente di un'altra in due diverse maniere primo inerendo adesso come la bianchezza del colore è un accidente di Socrate l'avevo detto prima Mario è bianco nel senso ha una carnagione bianca questo è un accidente perché per essere uomo non c'è la necessità della carnagione bianca almeno di essere razzisti è evidente uno povero la carnagione nera rimane pur sempre uomo secondo perché si trova abbinata con essa nel medesimo soggetto come il fatto di essere bianco è un accidente dell'essere musico Mario può essere un musico bianco un musicista bianco quindi potrebbe anche essere un musicista in difficoltà e a questo punto noi vediamo il rapporto con le cose che stanno attorno a questo musicista che si trova di fronte ad uno strumento che funziona male e quindi lo strumento che funziona male diventa un accidente delle capacità di musico di Mario quindi diventa un accidente dell'accidente un musicista in difficoltà quindi vedete che una situazione che sta attorno a noi può determinare un accidente che è intrinsecamente legato alla nostra senza infatti le circostanze possono essere accidenti dell'atto infatti gli appartengono mediante l'atto in modo ad agire abbiamo fatto l'esempio del musicista in difficoltà a causa di qualche cosa che sta al di fuori che può essere uno strumento non sufficientemente accordato con diligenza perciò adesso vediamo il pensiero di Tommaso le condizioni particolari di qualsiasi singolare di qualsiasi persona sono suoi adesso valutiamo la persona singolare vabbè anche per l'animale può avvenire una predicazione di questo genere però adesso interessa la persona sono suoi accidenti individuanti ora Aristotele nell'etica ha posto le circostanze le circostanze tra le cose particolari cioè tra le condizioni particolari dei singoli atti dunque le circostanze sono accidenti individuanti degli atti umani le circostanze ciò che ci sta attorno diventa condizione dei nostri atti ma se diventa condizione dei nostri atti è un accidente dell'accidente ed è importante tutto questo per definire un'azione se è morale o immorale anche perché nella questione 6 abbiamo visto come il timore l'ignoranza e tutte queste belle cose che ci girano attorno alla concupiscenza sono legate a ciò che sta al di fuori di noi ritorniamo sempre all'esempio che ho proposto più di una volta sono esempi limiti però sono importanti questi esempi il ragazzino di 8, 9, 10, 12 anni che viene rapito da delle bande di questi mascalzoni e a cui viene messo in mano un fucile ebbè nella sua azione viene determinato pesantemente dalla circostanza quindi le circostanze regolano in modo accidentale il nostro modo di agire le nostre scelte ora parlando di un corpo localizzato in un determinato ecco l'importante il tempo il luogo la contestualizzazione che non viene mai fatta dagli storici che raccontano la storiella e poi dicono non riusciamo a capire che cosa serve la filosofia ebbè certo se tu racconti solo la storiella e ti fermi puramente alle cause esterne esteriori sui giochi di potere ma non valuti invece la condizione della persona vuol dire che non hai capito nulla di che cosa sia la storia e di cosa siano le responsabilità individuali e i tuoi racconti sono le solite favolette che si raccontano alla gente e che vengono assorbite così dalla gente in modo inconscio come passatempo l'abbiamo visto chi mi ha detto a me questi racconti mi permettono di godere e basta questo andiamo bene allora parlando di un corpo localizzato si denominano circostanti quelle cose che pur essendo esteris cioè fuori di noi tuttavia lo toccano cioè ci toccano e gli sono localmente vicine nello spazio e nel tempo perciò tutte le condizioni che sono fuori dell'essenza dell'atto e che tuttavia riguardano in qualche modo l'atto umano sono denominate circostanze ecco cos'è la circostanza ma quello che riguarda una cosa ed è fuori dell'essenza di essa è un accidente quindi le circostanze sono accidenti che regolano pesantemente il nostro atto dunque le circostanze degli atti umani sono da considerarsi loro accidenti perciò quando noi valutiamo un'azione dobbiamo tener conto di quello che si definisce circostanza perché queste circostanze sono accidenti del nostro agire fanno parte intrinsecamente del nostro agire diventano da condizione di stare attorno diventano una condizione intrinseca diventano nostre e determinano le nostre azioni passiamo all'articolo 2 e qui si apre un argomento quanto mai delicato perché oggi abbiamo a che fare molto spesso con una serie di presbiteri accompagnata anche da molti vescovi che ci dicono non dobbiamo giudicare non giudicate non sarete giudicati vediamo di capire che cosa vuol dire non giudicare noi non dobbiamo assolutamente giudicare le persone ma gli atti devono essere devono essere giudicati Giovanni XXIII diceva non dobbiamo condannare il peccatore ma il peccato il peccatore può essere solo condannato da Dio ma il peccato le circostanze l'azione l'opera le nostre scelte devono avere una guida ben precisa altrimenti si continua a dire dobbiamo fare la volontà di Dio Cristo ci ha rivelato qual è la strada però alla fine non si dice in che cosa consista questa strada la Bibbia invece è molto precisa altro che mitologia è molto precisa a indicare qual è la strada per la salvezza ma se evidentemente noi continuiamo a raccontare tutto quello che può essere utile per una bella rappresentazione ma non andiamo alla sostanza che abbiamo visto qual è cioè definire qual è il percorso per usufruire della giustificazione in Cristo allora voi capite che anche il cristianesimo si riduce a spettacolo allora vi detto sembra che le circostanze degli atti umani non debbano interessare il teologo la risposta l'ho già data prima il teologo ci dice come dobbiamo arrivare alla vita eterna per arrivare alla vita eterna data la giustificazione da parte di Cristo questa speranza si attua attraverso un percorso che è determinato da delle opere ora il teologo deve quindi procedere nella teologia morale per definire quali sono quelle opere che ci conducono alla salvezza e quelle opere invece che ci dannano evidente che qui nelle prime obiezioni si sostiene il contrario gli atti umani non sono considerati dal teologo che in quanto atti qualificati cioè buoni o cattivi ora le circostanze non possono qualificare gli atti perché nessuna cosa viene qualificata formalmente da ciò che è fuori di essa ma da quanto in essa si trova noi abbiamo già detto prima che le circostanze sono importantissime per definire un'azione facciamo l'esempio del povero del diseredato del povero che è povero perché lo costringono nella povertà non perché vive una vita di inerzia e di acidia i poveri in questo mondo sono tanti specialmente nel terzo mondo qui i poveri più che altro sono coloro che non vogliono lavorare ma il povero ha un figlio ha dei figli ha una moglie e allora ruba ruba per dar da mangiare ai propri figli come non sono importanti le circostanze il fine c'è l'altro invece che ruba perché vuole arricchirsi c'è l'altro perché ruba c'è l'altro che ruba perché ama il rischio perché nel rubare oggi vediamo questi piccoli gruppi di giovani che per riempire i tempi vuoti perché così rilassano gli adulti guai se studiano più del dovuto guai se prendono in mano una zappa o se imparano qualche lavoro alla fine si perdono in giochi quanto mai pericolosi e molto spesso anche in furti ma non perché abbiano bisogno di qualcosa ma semplicemente per divertimento quindi vedete che le circostanze sono molto determinanti per stabilire se un'azione è buona o cattiva vediamo la risposta siccome la bontà degli atti consiste nella loro utilità in rapporto al fine niente impedisce che essi siano denominati buoni o cattivi in rapporto a elementi che li toccano dall'esterno io rubo del pane per dare a mangiare a mio figlio è un fine buono quindi poi bisogna vedere le circostanze e le vediamo dopo io rubo perché voglio arricchirmi non è certamente un fine buono io rubo per passatempo vedete che il fine determina sostanzialmente è una cosa esterna è una circostanza che definisce e qualifica la mia azione se buona o cattiva quindi le circostanze devono essere tenute in considerazione 2 per ogni cosa ci sono infiniti accidenti perciò come dice Aristotele nessun'arte o scienza eccetto la sofistica si occupa di quanto è accidentalmente dunque il teologo non deve occuparsi delle circostanze degli atti umani sì ma ci sono accidenti accidenti che cosa intendiamo per infiniti accidenti il padre di famiglia che ruba del pane per sfamare i propri figli vabbè allora l'accidente qual è beh l'accidente potrebbe essere ho rubato in questo supermercato invece che nell'altro ho rubato del pane siciliano oppure delle biove oppure del pane pugliese oppure questi sono infiniti accidenti noi non vogliamo tenere in considerazione questi accidenti perché questi accidenti li considerano soltanto i sofisti quelli che vogliono sostanzialmente portare a regorgia no? quelli che ci dicono la misura di tutte le cose è l'uomo e quindi noi dobbiamo incantare chi ci ascolta e sviarlo dalle cose più importanti e le cose di minore importanza a noi non interessano questi accidenti che non hanno nulla a che vedere intrinsecamente con l'atto col fine con l'intenzione questi accidenti evidentemente non li consideriamo non fanno parte di nessuna scienza seria se non quegli accidenti sono proprio gli accidenti che vengono considerati oggi l'aspetto proprio accidentale che non ha assolutamente alcun valore noi stiamo parlando di quegli accidenti che sono determinanti nell'azione del soggetto e nelle sue scelte quindi dice gli accidenti che capitano in maniera del tutto accidentale sono trascurati da qualsiasi disciplina le circostanze come abbiamo spiegato pur restando estrinse che all'atto tuttavia lo riguardano essendo ordinate adesso stiamo parlando di altre situazioni accidentali e penso che l'esempio possa calzare andiamo al terzo lo studio delle circostanze interessa agli avvocati dunque lo studio delle circostanze non appartiene al teologo no il problema è che abbiamo detto più di una volta che tutte le scienze sono importanti ma la teologia è la mater scienziarum scusate la filosofia è la mater scienziarum e della filosofia usa la teologia perché la filosofia è l'ancilla teologia nella prospettiva di Tommaso quindi innanzitutto il filosofo deve trattare di ogni cosa che può essere oggetto di considerazione in modo particolare nella prospettiva morale così come fa Aristotele nelle sue due etiche poi la filosofia è una prospettiva teologica diventa servizio della teologia quindi se nell'aspetto specifico le circostanze sono trattate dall'avvocato non vuol dire che non devono essere tenute in considerazione dal filosofo dal teologo vediamo la risposta lo studio delle circostanze interessa il moralista il magistrato l'avvocato il loro interesse però è diverso infatti l'avvocato se ne serve per persuadere l'avvocato per persuadere che l'imputato è colpevole oppure per persuadere che l'avvocato che l'imputato è innocente il magistrato per giudicare il giudice alla fine deve dare deve mettere un giudizio al teologo l'abbiamo già detto più di una volta le azioni e le circostanze sono importanti perché determinano un'azione se è cosciente o inconsciente se è consapevole o meno e se è un'azione in sintonia con quella retta strada che ci ha insegnato il verbo lo spirito e che dovremmo seguire per conseguire la vita eterna quindi le circostanze interessano in tutti i modi suddetti egli infatti il moralista il teologo il teologo deve giudicare l'azione è non una persona giudicare col moralista degli atti virtuosi e peccaminosi ecco è importante giudicare è importante altro che non giudicate non sarete giudicati noi stiamo non stiamo giudicando le persone stiamo giudicando gli atti per capire qual è la strada che dobbiamo percorrere troppo comodo prendere delle parole delle frasi circoscritte dal Vangelo e poi applicarle così to cure all'azione quotidiana con l'avvocato e col magistrato deve considerare gli atti in quanto meritano un premio o una pena per cui questa azione è cattiva intrinsecamente cattiva non può altro che portarci alla dannazione non certamente la vita eterna la pena è la dannazione nella prospettiva del teologo il premio è la vita eterna detto questo passiamo l'ignoranza delle circostanze causa atti volontari abbiamo visto non ricordatevi la questione precedente non ogni tipo di ignoranza ma l'ignoranza ricordate abbiamo fatto l'esempio di un ragazzino che si trova un'arma in mano senza volerlo parte un colpo e ferisce qualcuno e chiaramente è un'azione che è priva di responsabilità come insegna di un ragazzino san gregorio di missa ma l'immunitarietà scusa dalla colpa di cui il teologo deve interessarsi rispondo e questo è il pensiero a sintesi di tommaso le circostanze interessano il teologo per tre motivi primo gli atti vengono proporzionati al loro fine mediante una certa commisurazione determinata delle debite circostanze io rubo ho tentato di trovare un lavoro non ci riesco nessuno mi accoglie io rubo per sfumare per sfumare me stesso perché ho il diritto innanzitutto alla vita e per sfumare la mia famiglia queste sono circostanze che sono più che mai importanti è evidente che sono accidenti ma determinano accidentalmente le mie responsabilità magari non le determinano di fronte alla legge degli uomini ma certamente le determinano di fronte alla legge di Dio secondo perché il teologo considera gli atti umani in quanto si trovi in essi il bene e il male il meglio e il peggio e con queste variazioni dipendono dalle circostanze terzo perché il teologo considera l'aspetto caratteristico degli atti umani di essere meritori o demeritori è un atto che ci porta alla vita eterna o ci porta alla danazione questo è oggetto di conoscenza da parte del teologo ed ecco perché la morale è sempre stata importantissima la morale oggi però l'ho già detto tante volte il moralista è un povero stupido quindi ora l'atto umano è giudicato come volontario e volontario ne abbiamo parlato nella questione precedente in base alla cognizione o all'ignoranza delle circostanze come abbiamo già detto dunque lo studio delle circostanze deve essere importante e indispensabile per ogni approfondimento teologico passiamo quindi all'articolo 3 in riferimento a questo articolo 3 io non voglio prendere in esame le argomentazioni 1, 2, 3 la risposta a queste tre argomentazioni perché secondo me ci perdiamo in chiacchiere inutili si fa riferimento al terzo libro dell'etica e si disquisisce quali siano le circostanze che devono essere considerate quali siano le circostanze più importanti e meno importanti secondo me a priori non si può considerare un aspetto più importante dell'altro bisogna vedere da situazione a situazione comunque questa sintesi noi la troviamo in Tommaso questa riflessione secondo me è importante senza disquisire quali di questi aspetti sia in una prospettiva assoluta più importante in una prospettiva relativa è evidente che c'è magari un aspetto più importante ma è proprio per questa ragione che secondo me non dobbiamo partire proprio col principio che solo ed esclusivamente un aspetto sia in ogni caso più importante degli altri allora Cicerone nella sua retorica enumera sette circostanze quis quid uvi quibus ausili scur quomodo quando che traduciamo chi che cosa dove con quali mezzi perché in che modo quando Aristotele lo vediamo dopo Aristotele però nel terzo libro dell'etica ne aggiunge un'altra e cioè intorno a che cosa inclusa da Cicerone in che cosa allora vediamo il prospetto si chiama circostanza una cosa che pur essendo esterna all'essenza di un atto l'abbiamo già detto in qualche modo lo riguarda e ciò può avvenire in tre maniere allora primo una cosa può riguardare l'atto medesimo e allora il tempo e il luogo l'UBI dove il luogo quando la qualità dell'atto cioè il modo di agire comodo allora Luigi in una condizione di povertà oggi in questa città senza violenza porta via dal supermercato qualcosa secondo le cause le cause dell'atto il perché causa finale per andare a mangiare la propria famiglia oppure per sostentarsi perché manca l'alimento per sopravvivere elemento elemento essenziale per sopravvivere causa materiale intorno a che cosa il pane è chiaro è chiaro che se uno incomincia già intorno a che cosa a rubare le sigarette voi capite che sembra una cosa secondaria ma è importantissima delle sigarette non hai bisogno è un vizio del pane invece hai bisogno causa agente chi è che agisce Mario povero in una condizione di estrema povertà causa agente strumentale con quali aiuti beh con quali mezzi attraverso un 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 si può usare cioè cercando di distrarre l'attenzione dei sorveglianti no eh attraverso eh un atto eh più eh felino di eh un altro insomma quei bus ausili possono essere molteplici a seconda circostanza gli effetti che cosa uno abbia fatto beh ha rubato vedete eh che poi il che cosa intorno a che cosa eh non stiamo lì a sottilizzare Aristotele aggiunge anche intorno a che cosa invece eh Cicero ne parla solo di che cosa eh a noi interessa però capire che tempo luogo perché eh intorno a che cosa eh chi ha agito eh sono importantissimi sono importantissimi eh Tommaso insiste che è importante la causa finale la causa finale è quella che determina un po' eh tutta eh la concatenazione delle eh di questi accidenti eh che stanno attorno le circostanze non c'è dubbio che la causa finale è importante io la causa finale è quella di sfamare i miei figli la causa finale è quella di sfamarmi non ho nulla però ci sono anche delle circostanze che sono importanti la causa gente quiz sì io ho diritto di sfamarmi ma tu Mario prima cosa hai fatto la cicala o hai fatto la formica e hai pensato anche ai tuoi doveri di uomo e di padre ci sono delle condizioni ben precise anche intorno a che cosa un conto come ho detto prima è rubare un pezzo di pane un conto è rubare qualche cosa che non serve assolutamente a nulla o qualche donna qualche signora che va al supermercato e che ti ruba la crema o il profumo lì a che scopo il quid diventa determinante non è qualche cosa di essenziale no e poi il modo di agire vado là rubo con un po' di furbizia cercando di distrarre i sorveglianti oppure uso la violenza quindi tutte queste circostanze ci definiscono se un'azione è morale o immorale se è volontaria o è volontaria se è in sintonia con il percorso che ci ha indicato Cristo nella sua buona novella oppure no ma oltretutto secondo me ci aggiungerei anche a questa cosa che è importante ci ci impegna impegna noi cristiani a valutare le responsabilità che possono ricadere anche su chi è indifferente perché se ci troviamo di fronte a delle persone che sono costrette a rubare perché non hanno il minimo indispensabile per sopravvivere sebbene abbiano tutte le intenzioni di lavorare di impegnarsi eccetera e noi le abbiamo escluse dalla nostra esistenza e dalla nostra comunità stiamo parlando sempre di comunità cristiana voi capite che siamo anche pure noi responsabili queste sono condizioni che noi chiamiamo circostanze circostanze quindi le nostre omissioni ecco perché dicevo tante volte che saremo giudicati sulle omissioni avevo fame non mi avete toto mangiare non mi avete toto da bere io i nudo non mi avete vestito attenzione che qualcuno poi vive in queste condizioni che noi poi condanniamo però sono condizioni in cui poniamo noi i nostri fratelli parlo di comunità cristiana perché al di là della comunità cristiana chi non è cristiano e percorre un'altra strada Paolo dice dobbiamo pensare innanzitutto a quello che dobbiamo fare noi gli altri che non credono in Cristo non credono nella buona novella non credono in questa speranza non credono nella vita eterna avranno un altro percorso non possiamo noi violare la loro libertà e il loro libero arbitrio perciò terminiamo con l'articolo 4 e qui si riprende il pensiero precedente su cui io sono d'accordo solo in parte sembra che le principali circostanze non siano come vorrebbe Aristotele il perché e le cose in cui si estrinse per l'operazione cioè il cur e il quid invece per Tommaso il cur e il quid il perché e la cosa in cui si estrinse per l'operazione sono di vitale importanza e fa riferimento a Gregorio Nisseno le principali circostanze sono il fine per cui si agisce e quello che si fa sì per lo più è così il fine è importante non c'è dubbio ma ad esempio il cuomodo come si fa voi capite che anche per procurare a se stesso o alla propria famiglia il pane se io rischio di ammazzare qualcuno il cuomodo cari miei supera di tanto il fine Tommaso dice gli atti si chiamano propriamente umani in quanto qui c'è un errore vediamo in quanto sono volontari come abbiamo visto ora muovente oggetto della volontà il fine perciò la principale tra tutte le circostanze è il perché il cur al secondo posto c'è la circostanza che riguarda l'essenza stessa del lato ciò che si fa rubo il pane per andare a mangiare a mio figlio sì ripeto per me il cuomodo è importantissimo perché per rubare il pane e ammazzo una persona il cuomodo fa saltare il perché e si fa saltare anche il quid intorno a che cosa intorno al pane sì d'accordo tu stai ammazzando della gente è evidente che ripeto azioni di questo genere molto spesso sono comandate da una necessità e da un diritto naturale di fronte a una società ingiusta però sono delle circostanze gravi che devono essere valutate ma poi bisogna vedere anche il tempo e lo spazio ci sono stati momenti nella storia che si dava l'indulgenza plenaria a coloro che combattevano e ammazzavano gli infedeli voi capite che il fine sì sì era la vita eterna però voi capite che lo spazio il tempo il tempo la circostanza erano un po' fuorvianti oltretutto spesso si cadeva in eccidi di una violenza terribile il cuomodo abbiamo degli sfasamenti molto spesso quando il fine viene giustificato come buono e non è assolutamente intrinsecamente buono e questo è determinato dalle circostanze dal tempo ecco perché io dico sì non c'è dubbio che il che cosa e il fine sono determinanti ma anche tutto il resto è importante perché anche le altre definizioni che abbiamo visto prima possono essere così forti nella determinazione di una particolare scelta che superano lo stesso fine e lo stesso quid perciò in linea di massima il perché il fine e il quid sono i fulcri che ci dicono se un'azione è buona o è cattiva poi evidentemente chi combatteva e gli si diceva che avrebbe avuto la vita eterna se fosse morto in battaglia e se avesse ammazzato più nemici possibili chiaramente questo agisce in un'azione volontaria perché c'è qualcuno che lo lo rende il cristianesimo una ideologia e lo istruisce un'autorità che istruisce questa persona ignorante in modo errato quindi chi ha seguito questa strada con questo entusiasmo di vita eterna ammazzando e facendo fuori più nemici possibili è giustificato perché è un'azione assolutamente cattiva in sé ma assolutamente involontaria determinata dall'ignoranza perciò abbiamo visto l'importanza delle circostanze mi raccomando ricordatevi sempre questo schema se poi vogliamo dimenticare intorno a che cosa ci sta bene però l'uvi quando il cuomo del cur il quid il quis e quibus acus il lis sono importanti per determinare le circostanze e per definire un'azione morale o immorale un'azione degna della vita eterna e un'azione che naturalmente ci conduce su una strada che non ha nulla a che fare con la novella cristiana e con il messaggio di Cristo grazie a tutti